Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo in un nuovo video glitch Mi raccomando raga tutti quanti un bel pollice all'inzu per questo ritorno dei video glitch Scusate ragazzi ieri non ho potuto fare nessun video Ma oggi raga vi ho portato un video veramente devastante Come prima cosa raga dirigetevi in creativa Andate in una qualsiasi mappa e utilizzate questo codice qua Questo qui è il codice della mappa Mi raccomando raga copiatelo Ve lo scrivo anche più grande qua su schermo Andate a premere accetta ragazzi e entrate dentro la mappa Immediatamente Perfetto ragazzi siamo dentro E essendo che abbiamo messo la mappa dalla creativa Possiamo già avviare noi stessi per l'appunto la partita Quindi raga andiamo a premere avvia partita Ok ragazzi prima di fare qualsiasi cosa Vi ricordo di dirigervi verso questo Non so cos'è questo tipo questo Questa rotella strana E raga di citare il mio supporto a un creatore Mi raccomando eccolo qua Minatti Questo qua è il mio supporto a un creatore Ringrazio tutti coloro che ve lo andranno a utilizzare Anche perché ragazzi su questi video io non ci guadagno niente praticamente Questo è l'unico modo che potete fare per supportarmi raga Mi raccomando mettetelo tutti e premete accetta raga Grazie mille Ok ragazzi per iniziare il glitch bisogna dirigersi verso questa gabina qui Creare due piattaforme e dopo di che cinque scale Dopo averne fatte cinque raga andiamo a creare un'altra piattaforma Ci giriamo verso destra e creiamo altre cinque scale ragazzi È veramente semplicissimo questo glitch Andiamo a creare un'ultima piattaforma raga Il gioco è fatto praticamente Premiamo interagisci e dopo di che ragazzi Tutti questi tastini che troviamo qua Quindi le esperiamo tutti E guardate raga quanta esperienza ci dà AFK raga Guardate quanta botte da 17.000 di esperienza ragazzi Mamma mia Quanta esperienza ci sta dando Sì vabbè raga hanno cambiato il modo di dare esperienza Ma è normale E il bello raga è che questo glitch funziona anche in lobby Ok ragazzi sono il Dead Domi del Futuro E vi sconsiglio questa cosa Dava più esperienza in gioco Quindi non lo fate Ciao vi lascio il video Quindi possiamo tranquillamente tornare al centro E guardate un po' Continuerà a darci tantissima tantissima esperienza raga Mi raccomando ragazzi cosa state aspettando Un bel pollice all'inizio a questo video Arriviamo anche qui a 50 like per un prossimo video glitch Se non siete ancora iscritti vi ricordo di iscrivervi al canale Perché la maggior parte delle persone che vedono i miei video Sono non iscritti Quindi raga cosa state aspettando Iscrivetevi al canale Che dire ragazzi Da Dead Domi è tutto Noi ci becchiamo Un prossimo video Un prossimo live Ciao raga Ciao Ciao